In una campagna elettorale povera di contenuti il voto si sollecita stimolando lo spirito di parte degli elettori e quanto sta accadendo anche in Abruzzo tra i vari partiti politici impegnati in una vera e propria guerra di posizione per difendere il consenso all'interno del proprio elettorato e per provare a rubare voti agli avversari. Nel centrodestra c'è fiducia in vista del 4 marzo e il nemico da combattere, come dice Gianfranco Rotondi, non è il PD in difficoltà ma il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo evitare che i barbari vadano al governo, dice il deputato democristiano. Il Paese e l'Abruzzo scelgono tra Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Gli elettori di sinistra che vogliono rendere un servizio al Paese evitino di mettere un voto in frigorifero nel defunto Partito Democratico e votino direttamente Forza Italia, che è un nemico. Resta un nemico ma per una volta nella vita si vota pure il nemico quando si tratta di salvare un sistema Paese. Parlando invece dell'Abruzzo, tra qualche tempo si tornerà a votare anche nella nostra regione. Oggi al governo c'è il centrosinistra, anche in questo caso pensate di poter tornare a governare questa regione? Chi vince le politiche vince anche le regionali perché in pochi mesi è difficile che si cambi idea. Quindi prevedo che il prossimo presidente sarà di Forza Italia o del Movimento 5 Stelle. Scelgano gli abruzzesi. Arrotondi risponde dal blog del Movimento 5 Stelle, primo di Nicola, ex direttore del centro, oggi candidato al senato con il movimento fondato da Beppe Grillo. Pensate se lui fosse stato un semplice lavoratore con 19 anni di contribuzione non avrebbe avuto diritto alla pensione. Voi capite quindi perché l'onorevole Rotondi, ma solo lui e solo la casta, ha paura e terrorizzato dall'arrivo del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Perché noi questo suo privilegio lo cancelleremo appena messo piede in Parlamento. E caro onorevole ci può contare. Questa è una grande soddisfazione che personalmente mi voglio togliere, ma che voglio che tutti i pensionati italiani sotto la soglia di povertà riescano a togliersi. Movimento 5 Stelle che cerca di uscire dall'angolo della polemica in cui si è avvitato relativa alla restituzione dei compensi dei parlamentari. Quegli abruzzesi, Vacca, Colletti, Castaldi e Del Grosso ricordano le proprie cifre. 820 mila euro restituiti ai cittadini grazie al taglio di stipendi e rimborsi e invitano il presidente D'Alfonso e gli altri a fare la stessa cosa. Dal partito di Berlusconi arriva l'accusa alla regione Abruzzo finita, dicono, al terzultimo posto nella classifica della spesa dei soldi che arrivano da Bruxelles. Intanto questa mattina D'Alfonso ha fatto visita al quartiere Fontanelle di Pescara per illustrare il piano di riqualificazione delle case Ater. Questa è una zona di significato di Pescara che ha bisogno di manutenzione straordinaria sia negli spazi di vita che negli spazi di vita comune. Abbiamo cominciato con 2 milioni e 400 mila euro a fronte di un'errata previsione iniziale documentale di 5 milioni. Dopo di qui noi ci occupiamo anche di via Salare a Vecchia e anche delle case Gescal e andremo in mattinata con le imprese, con il loro gesto di responsabilità sociale, andremo a prendere le misure alle case di viata onde revelle. Io credo che la misurazione del da farsi è distinta e introduttiva rispetto alla progettazione. Sempre a sinistra continua la mobilitazione contro ogni rigurgito di fascismo. Maurizio Cerbo, segretario nazionale di rifondazione comunista e candidato di potere al popolo, domani sarà a Roma con una delegazione abruzzese in partenza da Pescara per il corteo intitolato mai più fascismi, assieme agli esponenti dell'AMPI. Il PRC, dice Acerbo, è da sempre in prima fila nel denunciare riemergenze delle forze neofasciste in Italia ed in Europa. Gli fa eco la candidata di Libere Uguali alla Camera Celeste Costantino che chiude a qualsiasi tipo di legittimazione di movimenti legati ad ideologie di estrema destra e dice che con i fascisti non ci può essere alcun confronto.